Buongiorno, buongiorno al nostro pittore. Buongiorno a voi. La carissima artista, mi ripeto un nome? Gabriele. Gabriele. Secondo me Alza Teresa va premiata, anche perché lei era una donna di fede, era assai devota a Madonna Anivi, non mancava una domenica a Missa e tantissime ricorrenze che si festeggiavano a Zungri. Questa foto, onorata, è stata scattata a Raisina con l'associazione Asfalantea. Asfalantea è un'associazione storica e culturale, quindi sei già a conoscenza? Sì, sì. Ebbene, come ti posso fare una domanda? Sì. Come mai ti ha attratto questa icona di Zungri? Perché è stata tutta una casualità, ho visto questa foto, mi attraeva perché c'è questo volto caratteristico e poi una volta che la stavo dipingendo, tutti quanti mi hanno raccontato la sua storia, poi mi sono affascinato e quindi ho deciso di proseguire con questo. Non l'ho conosciuta di persona purtroppo, mi sarebbe piaciuto, però sentendo parlare le persone appunto di Zungri, mi hanno scritto come un'icona, come appunto il simbolo di Zungri e quindi mi piaceva l'idea di metterla qui, su questa porta. E infatti Azze Teresa, come già ti dicevo io, è un'icona, è un'icona per Zungri. E piaceva che coglieva passare. Ha lasciato tantissime impronte qua a Zungri. È stata una donna di grandissima umiltà, una donna lavoratrice, una donna che ci ha lasciato tantissimo come esempi, ci ha imparato a noi giovani. O prima di tutto a me, ci tengo un modico in dialetto, mi imparò il segreto come se faccio i panni, perché anche grazie a lei noi siamo cresciuti, perché giustamente Nudo non è ci ha imparato, però con le sue mani, guarda, con le sue mani che tu l'hai riportato è qualcosa di eccellente. Mani sapienti, mani che sanno dire tutto. Tu se guardi il viso ti trasmette, guarda, quella serenità. Amava essere fotografata, aza Teresa girò tutto il mondo, quindi onore e meriti, anche come buona valenza, diciamo noi, voglia bene a tutti ed era ben voluta di tutti i Zungritani. Intanto ti faccio i più vivi complimenti perché aza Teresa ti parla, sia nel dipinto e sia su Bob Arrari, mi gratifica, mi gratifica l'impronta per quanto riguarda la gatta, perché la gatta giustamente è una coccolona e sceglio aza Teresa, spontanea, sceglio aza Teresa e se lo sento oggi si ubbene, non c'è da aza Teresa, perché vedeva in lei la semplicità e l'amore verso gli animali, verso tutti. Bene, ti ringrazio, grazie della tua testimonianza. Grazie mille. Franco Crudo vi saluta, l'associazione Asfalantea.